ciao ragazzi sono riccardo bentornati in mio canale youtube oggi voglio farvi vedere un incisore laser in grado di incidere con questa qualità e questa definizione su un semplice fogliettino di compensato ma anche con questa qualità questa definizione sul cuoio si tratta del neige max 4 un incisore laser con un'area di incisione grandissima che però a tanti pro ma anche tanti contro non perché non funzioni bene perché invece però una sua filosofia particolare diciamo un po retro siamo abituati a degli incisori laser molto più evoluti tecnologicamente quindi questo potrebbe risultare un po strano tra l'altro scrive pure con la penna comunque questo lo vedremo fra poco ora cambiano inquadratura ma a mano vi dico tutto quello che mi è piaciuto quello che non mi è piaciuto e vi faccio vedere pure la sua qualità quello che si può ottenere facendo le inquadrature dettagliate in modo da vedere appunto conoscere bene questo prodotto vi lascerò anche il link giù per vedere il prezzo aggiornato perché questo incisore si può comprare con diversi moduli quindi in base al tipo di modulo cambia prezzo cambiano tante cose quindi inutile dire prezzi ora andate a guardare giù in modo che qualunque sia il periodo in cui cliccate avrete sempre il prezzo aggiornato ora però cambiamo davvero inquadratura e guardiamo tutti i lavori e l'incisore e allora io solitamente parto con una panoramica ma questo incisore è così grande che devo mantenermi un po più distante allora guardiamo la struttura quindi un telaio in alluminio molto robusto 20 x 30 mm questa parte invece una forma ad l anche questa robusta saranno circa 5 mm di alluminio con tutti questi fori tra l'altro filettati che ci permettono sia di fissarlo un piano di lavoro che eventualmente utilizzare determinati accessori da questa parte come vedete ho dovuto mettere queste barre in metallo perché altrimenti il motore che sporge leggermente urtava contro il muro diciamo che come piano di lavoro vi necessito almeno 65 cm di profondità la larghezza invece ovviamente adeguata a quella dell'incisore considerate pure circa un metro per potervi muovere correttamente questo è il nostro modulo da 20 watt che adesso guarderemo per bene è dotato anche di sistema di air assist viene dato in dotazione anche un accessorio che permette di scrivere che adesso comunque vi farò vedere tutte le connessioni sono ordinate obiettivamente hanno studiato un sistema con dei cavi che arrivano grazie a questa calza in nylon che partono dal controller e quindi mantiene tutto ordinato l'unico problema che io ho dovuto mettere questa staffa fai da te perché altrimenti il cavo sarebbe caduto nell'area di lavoro diciamo che studiato per rimanere in questa posizione quindi rimanere sollevato ma nel mio caso non rimaneva assolutamente posizione nonostante abbia stretto per bene le viti quindi tendeva a cascare verso giù in questo modo risolto si può mettere eventualmente una barra dritta io per sbrigarmi ho messo questa cosa diciamo così improvvisata e non ho voluto nemmeno mettere il sistema che serve per tendere la cinghia comunque sia basta semplicemente come tutti gli decisori laser tirare la cinghia dopodiché stringere questa vita si mette in tensione senza dover utilizzare sistemi particolari ma comunque una cosa che aveva fatto una sola volta quando si monta e poi non va fatta più allora tra le cose positive abbiamo una struttura come dicevamo poco fa molto robusta questa guida lineare che dà una gran bella fluidità tutti i movimenti un modulo laser nel caso specifico molto potente da 20 watt con un punto di incisione laser piccolissimo 0,6 x 0,06 significa che si possono ottenere dei risultati davvero eccezionali con dei dettagli finissimi tra l'altro all'asse z motorizzato e quindi ci permette pure di fare dei cambiamenti di altezza di messa a fuoco durante tagli per poter tagliare in modo da abbassare ogni passaggio l'altezza del modulo è una cosa che non ho utilizzato comunque semplicissima di impostare sul light bar eventualmente farò un video specifico sia per l'utilizzo della penna che per l'utilizzo della regolazione dell'asse z oggi concentriamoci sulla qualità generale nema 17 sia a destra che a sinistra quindi entrambi i motori si muovono in modo sincronizzato e mentre l'asse x scorre su questa guida lineare per quanto riguarda l'asse y non abbiamo ben quattro ruote che danno una gran bella stabilità il sistema di regolazione invece prevede l'utilizzo di una chiave a brugola perché va svitata si svitano pure queste viti e si regola la tensione un metodo semplice e molto rapido anziché intervenire con la classica chiave inglese per regolare gli eccentrici in questo modo siamo pure veloci e precisi molto più precisi di quanto saremmo con la chiave e questa invece è la scheda di controllo come vedete una scheda che è posizionata direttamente sull'asse quindi è una scheda in movimento questo significa che ci trasciniamo appresso tutti i cavi cavo usb cavo di alimentazione eccetera sicuramente non è una cosa che io ritengo comodo avrei preferito fosse stato sulla parte anteriore o comunque da qualche altra parte in modo da non dover avere questi cavi che si trascinano pure perché dobbiamo calcolare che sulla sinistra del nostro incisore dobbiamo avere tanto spazio a disposizione perché se abbiamo qualche ostacolo ovviamente è qualcosa si può andare ad incastrare un altro particolare fatto che i motori vanno in blocco quindi si immobilizzano quando inseriamo l'alimentazione quindi non sarà più possibile spostare assolutamente nulla tutti gli spostamenti andranno fatti tramite software questa è una cosa che mi ha fatto storcere un po il naso perché vorrei essere libero di poter rimuovere come dico io tra l'altro c'è anche un sistema che prevede l'utilizzo con un software della neia bisogna premere questo tastino si accenderà un led di colore differente all'interno e quindi si potrà utilizzare sia con light bar guardate lo tengo premuto si è acceso il led arancione vai nom adesso andrà a urtare da questa parte il motore perché è molto vicino guardate ok quindi come avete visto ha urtato si è spostato l'incisore e in questo caso si può utilizzare tramite il suo software che io però non ho voluto utilizzare mantengo premuto si spegne quindi il led di colore arancione non riesco più a spostarlo purtroppo vi faccio vedere anche il movimento dell'asse z quindi abbassiamolo quindi tutto motorizzato sia in alto che in basso questo ci permette sia di regolare l'altezza al nostro piacimento prima dell'incisione anche per la messa a fuoco ma durante l'incisione che vi dicevo per regolare l'altezza e quindi avere una profondità maggiore per quanto riguarda quindi la messa a fuoco non viene specificata all'altezza io quindi cosa ho fatto ho regolato con il motore un'altezza intermedia e poi ho agito su queste viti in modo da utilizzarlo come un normale incisore laser che abbia lo spessore in dotazione ho tagliato questo pezzettino di legno e questa è l'altezza che io utilizzo per poter mettere a fuoco in questo modo sono sicuro che ogni volta potrò avere la messa a fuoco corretta senza dover intervenire sui tastini spostare millimetro per millimetro svito questi due pomelli la basso e quindi incido oppure taglio detto questo ora però parliamo di quello che sono riuscito ad ottenere allora queste sono le prime prove che ho fatto direttamente sul cuoio circa 4 mm di cuoio come vedete tagliato benissimo se il mio telefono mettesse a fuoco sarebbe ancora meglio allora come vedete tagliato benissimo con una gradualità meravigliosa quindi rispetta perfettamente le impostazioni e quella proporzione tra la velocità e la potenza guardiamo anche la parte posteriore si vede che anche nella parte posteriore rispettato le stesse impostazioni questi che non si sono staccati autonomamente anche se si vede chiaramente che sono tagliati le ho lasciate al loro posto però sbattendo il pezzo su una superficie dovrebbero staccarsi come vedete qualcuno si è staccato quindi riesce comunque a tagliare molto bene il cuoio non si taglia tanto facilmente considerando che un solo passaggio e che abbiamo tagliato anche a 700 mm al minuto con il 100 per cento di potenza ma anche a 600 mm al minuto con l'88 per cento di potenza secondo me sono delle buone prestazioni guardate anche nella gradualità nonostante siano solamente cinque quadratini per ogni linea per ogni colonna e abbiamo quindi un'ottima gradualità passa da un colore tenue a un colore più intenso fino a qua che ha scavato questi segni che vedete di questi graffi sono le teste che ho fatto io per vedere come questa incisione potesse tenere sulla pelle ma sono delle prove che ho fatto io per capire poi l'effetto sui portagliavi e a proposito portagliavi dopo avere fatto questi test ho fatto finalmente questi portagliavi ottenendo dei risultati straordinari guardate l'incisione di questi loghi così piccoli come è venuta bene in tutti i dettagli guardiamo anche delle riprese dettagliate mentre ve ne parlo per tutti i lavori ovviamente vi lascerò in sovraimpressione le impostazioni che ho dato per quanto riguarda la velocità e per quanto riguarda la potenza comunque consentiamoci su questi portagliavi allora sia per quanto riguarda l'incisione quindi le parti piene riempimenti sono venuti in modo omogeneo dettagliatissimi sia per quanto riguarda le scritte che per quanto riguarda i vari contorni insomma davvero un'incisione particolarmente accurata e che con questo incisore laser con questo punto così piccolo sono riuscito a fare per esempio il logo dell'alfa romeo o quello della fiat che sono davvero molto piccole sono venuti molto precisi il taglio è stato eseguito in un solo passaggio ha tagliato tutto benissimo è risultato mi piace tra l'altro ho voluto fare pure delle prove per verificare la precisione nel ritorno nel punto di incisione le porta chiavi dell'audi ad esempio ho fatto prima l'incisione e poi ho voluto fare il contorno dopo che il modulo si era spostato quindi era ritornato al punto di origine ho voluto fare l'incisione contornando quindi la scritta dopodiché ho fatto pure i quattro forellini che servono per poter avvitare il portachiavi e quindi fissarlo tramite i due pernetti e questa è una cosa che ho apprezzato perché è venuto tutto molto preciso poi ho fatto la prova anche sulle mdf sia per quanto riguarda il riempimento quindi anche in questo caso ottima gradualità su alcuni materiali non ottenuto questa precisione ho fatto diverse prove però sulle mdf mi è piaciuto mi è piaciuto sia per quanto riguarda la sfumatura da per quanto riguarda la linea nettissima molto precisa in questo caso impostato 0,06 a differenza della pelle che invece 0,08 per quanto riguarda il taglio sulle mdf un solo passaggio 90 per cento 200 mm al minuto è andata alla grande ovviamente utilizzato air assist e il taglio mi piace tantissimo perché in un solo passaggio mdf da 45 mm questo dovrebbe essere 4 mm non tutti gli incisori riescono a farlo e questo l'ha fatto senza abbattere io così come ha tagliato un centimetro di abete con un solo passaggio oppure questo 200 mm al minuto con il 90 per cento di potenza e la pulizia del taglio è davvero apprezzabile guardate non abbiamo segni di bruciatura tra l'altro anche sulla superficie non ci sono segni di bruciatura quindi per quanto riguarda questo tipo di lavoro va benissimo poi ho voluto fare anche delle prove sul multistrato quindi ho inciso questa immagine conoscete il cantante alex comunque ha inciso perfettamente tutte le sfumature le ombreggiature la collana l'orecchino anche il tatuaggio del personaggio l'unica cosa dovevo regolare un po meglio le impostazioni perché i capelli erano troppo pieni sono venuti un po rientrati comunque questa è una questione di impostazioni era la prima prova che facevo ovviamente dalle prossime saprò come comportarmi però tutti i dettagli tutti le ombre quindi le forme anatomiche sono venute davvero benissimo guardate è passato alla zona in ombra del viso alla zona chiara addirittura pure i baffetti se riesco a zoomare guardate è venuto davvero molto molto bene esattamente come era nella fotografia originale questo poi è stato ritagliato voglio farvi vedere che durante il taglio non avevo impostato l'era assist perché avevo appena fatto l'incisione quindi non sono stato molto veloce quando impostato ho acceso l'era assist e poi il taglio è venuto pulitissimo dopodiché vista la prova con l'era assist per quanto riguarda questo taglio ho deciso di fare anche una prova per quanto riguarda l'incisione il taglio con e senza era assist allora questo è stato realizzato tutto con era assist è venuto bene quindi un taglio pulitissimo non ci sono segni di bruciatura né davanti né dietro però come vedete ovviamente ci sono questi segni di bruciatura che non mi dispiacciono perché per il tipo di logo sembrano quasi delle ombreggiature potrebbero andare bene forse questa all'esterno rovina un po tutto per il resto come tipo di ombreggiatura per coincidenza può andare bene ma è una cosa ovviamente inevitabile se si utilizza l'era assist nell'incisione tra l'altro il punto di incisione così piccola questa velocità hanno permesso di ottenere questo effetto tridimensionale guardate che bello a rilievo invece senza era assist guardate si sporca ugualmente si è sporcato tantissimo e queste non sono segni di bruciatura dovuti al taglio ma ha sporcato mentre stava incidendo quindi non riesco a capire quale sia il motivo su questo tipo di materiale ha sporcato sulle altre prove sulle altre incisioni non ho avuto questo effetto quindi ha inciso perfettamente e scusatemi se qua è rotto ma stupidamente da ignorante e materia ho piegato questi pezzi in cuoio per agevolare la piegatura forzandoli con la morsa le ho rovinati va bene ma non interessa vedere il lavoro l'unico segno di bruciatura lo abbiamo solo da una parte di questa incisione però guardando al lavoro finale devo dire obiettivamente è venuto benissimo nulla da ridire anzi davvero un lavoro da 10 e lode ora diamo un'occhiata pure a ciò che si trova all'interno della confezione che non vi ho fatto vedere quindi metterò due riprese rapidissime del prodotto all'interno della scatola troviamo sul piano superiore alcuni componenti e poi sul piano inferiore troviamo le parti che compongono il telaio comunque all'interno si trova un cavo usb per la connessione degli occhialini che come vedete io non ho utilizzato perché utilizzo solo occhialini certificati anzi vi lascerò il link giù una cinghia molto lunga quindi me ne ha avanzato un bel po e questo è l'accessorio che ci permette di utilizzarlo come un plotter quindi con una biro tra l'altro ammortizzata che però io non ho utilizzato fatemi sapere eventualmente potrei realizzare un video per farvi vedere come si usa ma diciamo è una cosa che utilizzerei pochissimo è un accessorio che viene dato ma non è il pezzo più importante dell'incisore questa è una staff anche questa non l'ho utilizzata e questo è un ulteriore sistema per l'air assist ma come vedete sul modulo abbiamo quest'altro sistema quindi ci richiede di avvitare questo pezzettino lateralmente inserire il tubicino e poi dal nodolo dalla parte bassa abbiamo la fuoriuscita dell'aria insieme al getto del laser c'è il getto dell'aria e quindi da questa parte abbiamo tutto già montato non c'è bisogno di fare alcun tipo di modifica altrimenti questo avremmo dovuto avvitarlo qua in basso in questo modo piegando questo ago insomma sicuramente non è un lavoro pratico così invece hanno studiato questo sistema molto veloce però comunque danno in dotazione come accessorio anche quell'altro poi c'è del grasso da mettere eventualmente sulla guida nel caso in cui sia necessario e questi sono gli accessori che io non ho voluto montare perché vi dicevo si rendono più precisa la regolazione della tensione delle cinghie ma al lavoro che si fa una volta sola quindi si regola la prima volta questi non l'ho voluto utilizzare poi ovviamente delle fascette per stringere il tutto però stavo provando pure su questa targhetta in alluminio fare l'incisione di un occhio realistico che stava vedendo anche questa molto bene grazie al punto di incisione laser tutto benissimo solo che si è piegata completamente si è quasi accartocciata quindi ho interrotto decisione perché non si poteva più proseguire però potete vedere comunque la qualità dell'incisione laser puntini minuscoli 0,06 per 0,06 ci hanno una gran bella definizione cosa che vi ho dimostrato con questa fotografia che di tutto rispetto sembra quasi una fotografia stampata su carta quindi se ne aggiornasse un poco gli incisori laser rendendoli leggermente più moderni anche se questa è la loro filosofia penso che continueranno a produrre gli incisori laser in questo modo perché sono tanti estimatori e quindi non hanno interesse a fare modifiche però se fossero leggermente più moderni allora sicuramente sarebbe molto più accattivante e più interessante è un'altra cosa che avevo dimenticato di dirvi è il fatto per esempio che gli manchino i sensori di fine corsa utilizzandolo forse con il software della neia dato che comunque va a fine corsa come avete visto si ferma in autonomia probabilmente saprà sempre dove si trova perché comunque non ci è permesso spostarlo manualmente quindi avrà i suoi fine corsa dati dal software però se si utilizza con light barn allora in quel caso parte se non impostate bene il punto di rigida eccetera va a urtare contro i profili insomma sicuramente è un incisore laser valido che funziona bene non è entry lever un incisore laser professionale perché anche il costo e le prestazioni comunque sono importanti però deve piacervi deve essere un incisore laser che vi deve catturare perché alla sua filosofia e quindi deve essere un incisore laser che vi deve piacere per queste caratteristiche però per quanto riguarda i risultati alla fine funziona bene c'è da smanettarci leggermente all'inizio dopo che si impostano tutti i parametri dopo che si capisce come si deve utilizzare allora potrete avere le vostre soddisfazioni ottenendo dei grandi risultati detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace cliccando sul pollicione all'insù cliccate sulla campanella dopo essere iscritti ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto